Oggi c'era l'acqua che veramente faccia una nicchia schifetta vero vero salita certo tutta quella gente che ci fiscano ma non è giusto perché uno va a mare fa rinfrescarsi un pochettino e uno magari si inguina magari tutti e poi io che prendo quelle cose salita e vedi che la pasta sta fuggendo che la mia caruzza che ha a fondo che la scena e c'è questo bruticello che viene saporoso oggi è una maricriara per davvero botta del sacco mi stava rostrando il nido che ti ricco di hittare questa panetta senza manico e ancora tu non l'hai etica ma sarita sarita ma ne fa su mauro ci posso astutare perché mi pare buono già sta facendo un giauro questo mi stai ricchiato ma oggi mi devo ricchiare va oggi mi ricchiato ma i caruzza non ne so a mare ancora solo ti riscazziate ci disse che a luna ce la calavo la pasta ora lo spaghetto che fa non ci incoppola ma che se la mangio una incoppolata io me la mangio caura caura non mi interessa e poi se la scoppiano loro o se la fiorano ma che stai rostendo le opie ma se c'è tutto sto mangiare vedi che ci sta chienando della ricchi ma allora quello che non fa chietare i cavici allora c'è bisogno che ci calavo la pasta il mio telefono il mio al luna in quarto è cucinato questo sbarro ma niente niente lo sto pigliando io lo sto pigliando io pronto pronto il mio non mi risponde sarà con la città dei miei figli se si affronta e senta a me lo so questa forza ci mangia niente niente pronto? Gesù Adda? qui è? il cavallere oh cavallere buongiorno a storia a storia mi telefona dov'è? non pare ah si sta pigliando un piretino allora non pare che c'è un paradiso d'aranci e a un metà qualcuno qua sta venendo di mia mia di mia sta rita a muccia sul fascio mauro c'è un'altra ma pare che c'è anche no stavo dicendo lo sento lontano va beh che è vecchino lei si si eh ma non la sa la strada ah e va bene ora ci spiego io allora per telefono lei mi scendo del bar sta sapendo che Doco sarà romputo l'osso del collo no tutti quelli che vengono da me Doco si rompono il collo lei mi scendo del bar prende c'è la via Pisciabroro la vi presenti Pisciabroro? lei cammina dito di Doco che avanti ora c'è la via di Stummi no con occhio con l'occhio con l'occhio con l'occhio eh e girando fuori della via di Stummi vede che c'è una bella villa bella tutta chi ne diavoli fiori ma però chi te lo ne dà a me ah cavallere quando passa questa villa sta sentendo che ci sono le cigane e siccome la sono su chiudere e muzzono le cigane qua su lei non si scanda o venere lei viene no? chiamare cavalletto no? e dopo vede che c'è una casetta abusiva e dopo ci stavano altri va bene? l'aspetto su non su mangi i cani mia che è lunga oh Sarelli la mia mi sape che questo mi potete fare questa nicchia di disgrazio sai di ogni modo da capire scappammo da scappammo ora stai venendo qua ora andava a fare vileno di sicuro a te che c'è sto soggetto mi dico che c'è che mangia pittia ma Sarelli che ci occupo io ma è carabbi frigideri e ne esce questa uglia e ne esce il boppettone le luvere e ce la mi farei vedere che usiamo nuacce magari no? perché cavallere io sogno a ragionare e che fanno a ragionare? io come se ragiono? avanti ne esce, ne esce tutto il bene di Dio che abbiamo avanti magari cambiali ne esce muta 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 che c'è? mia ma è un gignano mozzogano oh cavallere mia ma è tutto sudato lei buongiorno si state sguagliando con questo cavallo all'uno in quarto ma che avete? mi pare che state andando a meccatino ma cosa ha portato i polli? i polli mi resta mia li scariciamo, scariciamo qua il champagne ma che sta venendo? chi è di maggiore lì? ma... ma lei mi sta offendendo mi sta offendendo ce lo sto dicendo lei mi sta offendendo ma gente mi sta offendendo per davvero ce lo dico qua comunque il champagne ma anche il cannellone ha portato un mazzotto ma... ma che ti fa che noi siamo molto di fame? avanti accettiamo accettiamo che la tavola è pronta avanti accuffiamo signora lei si vuole accettare qua il suo soggetto di fronte sai mettere di fronte e no e me lo tagliamo quando mangiare avanti cavallere ci ritassiamo la pasta perché chi sa mangia bella accettare avanti buon appetito a tutti ehi chi? chi stanno abbiando? un potecato intera e vediamo chi è cazzo lo sape cavallere i coppi e coppi ti vengono sempre comitivi amici parenti quanto un mattugno qui va? siamo della polizia tia chi va Dio? chi va Dio? mi scusi lei ha costruito il suo il suo soggetto il suo soggetto lo so mi segua lo devo seguire ma io qua stiamo mangiando mi segua mi segua va bene lo seguo non c'è bisogno che mi tira lo tiro lo tiro ma lei lo sa che sono io qui è qui è non lo sa che sono io ma qui è qui è un soggetto che so lei è il suo siamo 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 è il momento che avviso magari a mia famiglia c'è bisogno vengo siamo vicissi venga ma chi è il destino? sono qui non lo so ho un cavallero che mi porta a spiegare saluta 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 cavallero ma scusate un pochettino qua ci sono degli amici e mi devo allontanare forse non sarai cochi cochi forse che vengo non lo so però se vengo non vieni vieni se conosci se conosci se conosci va bene andiamo andiamo che posso fare? mi resti in mano ma chi mi sta mettendo le manette? cacetto non posso mettere le manette? è possibile è possibile è possibile è possibile è possibile siamo nel 2000 ma guardate questa chi è in fila è possibile è possibile è possibile ma